C'è un luogo unico al mondo, diverso da tutti gli altri, dove è possibile vedere il futuro già in azione. È qui che è nato il World Wide Web e da qui Internet si è diffuso in tutto il mondo. Noi siamo uno dei pochi linguaggi di pace che l'umanità è riuscita a inventare. C'è una grande passione per la conoscenza e questo è un linguaggio universale che trascende la razza, la religione, l'età. Dopo la scoperta della particella di Dio, al CERN comincia un esperimento mai tentato prima. Undecimila scienziati da tutto il mondo lavorano per ricreare il Big Bang, dentro la più grande macchina costruita dall'uomo. Entriamo a toccare le più grandi domande che sono sempre state lasciate aperte. Che cosa c'è dopo, che cosa c'è oltre quello che conosciamo. Entriamo 4%, magari 5% dell'universo. Questo è un problema grande. Il concetto di bellezza sembra completamente estraneo alla scienza. E questo è completamente falso. C'è una bellezza. La bellezza cosa vuol dire? Una ricorrenza, la simmetria che cos'è? E' il trovare dell'ordine all'interno del caos. Non c'è una definizione matematica della bellezza. Però la vidi quando la incontri. C'è un sesto senso che guida gli scienziati nella conoscenza. Che rapporto c'è tra verità e bellezza? Mia madre spesso mi chiede, ma queste particelle, le vedete o non le vedete? E se non le vedete, come fate a dire che esistono?